Il Stadio San Nicola Avevano già decisi, questa è una vergogna pure, hanno mandato via dal stadio, però noi ci troviamo adesso vicino alla fiera, non sappiamo dove andare di nuovo con la famiglia, senza scuola e senza un posto tranquillo, non possiamo vicinare proprio le strade, abbiamo bambini. Velvio ci sono stati dei problemi con l'assessore Bottalico? Sì, hanno detto che io ho parlato contro di lei, siamo dato una parola che non va bene, invece io sono andato da lei, ho dichiarato che io ho avuto, non è che non mi ha aiutato, mi ha aiutato sia Bottalico, con documenti, con la residenza, tutto quanto, anche per lavoro, anche servizi sociali. Però dipende soltanto da sindaco che vogliamo un posto tranquillo, senza problemi e senza pericolo delle strade. Cosa chiedete all'amministrazione comunale, alla città di Bari? Vogliamo chiedere un piccolo aiuto, che è possibile, c'è il sindaco, il sindaco che ce l'ha, un possibilità, non è che dobbiamo miniciare il sindaco, un piccolo suolo per esempio comunale, che noi dobbiamo dare bambini a scuola, dobbiamo anche noi guardare i nostri problemi, qualche lavoretto e così altro non chiediamo di più.